Tra l'altro chiedo a Fabrizio Cocchetti, il nostro regista, se ci può mostrare un'immagine nel servizio di colore che abbiamo montato stamattina, poco prima del rigore, quando l'arbitro concede il tiro dal dischetto, ci sono Capece, Tremolada e Defendi che tutti e tre vanno sul pallone e insomma non è che riescono a mettersi d'accordo subito, tant'è che Gambadori è costretto a correre verso la panchina di Capuano e chiedere all'allenatore chi è che deve calciare questo benedetto tiro dal dischetto. Poi va Capece e segna tra l'altro con grande freddezza lui che è uno specialista. Voglio chiederti Matteo se ti eri accorto della scenetta e se poi ne avete parlato dopo negli spogliatoi. Sì mi sono accorto. Questa è la parte finale perché già è successo, se possiamo tornare un attimo indietro a quando l'arbitro ha appena fischiato il penalty e così ci vediamo proprio tutta la scena del calcio di rigore. Eccoli qua. Qui ci sono Capece, Tremolada, Defendi, tutti che si girano verso la panchina e Gambadori che va da Capuano e Capuano gli dice tira Capece evidentemente e infatti poi Gambadori da lontano urla che deve tirare Capece e poi l'immagine si allarga e Capece va sul dischetto. Ma insomma Tremolada e Defendi non è che sono proprio convinti della decisione. Perché li provano un po' tutti, quelli che erano sul pallone li provano nella rifinitura e quindi magari in quel momento non sapevano chi era il rigorista.